Le tre rose di Eva, la quinta stagione non ci sarà, le parole di Aurora Anna Safronchik saluta Aurora, le tre rose di Eva 5 non ci sarà. Anna Safronchik saluta le tre rose di Eva. Dopo ben quattro stagioni, la fiction italiana sembra aver chiuso i battenti. Diversi sono i telespettatori che sperano di vedere una continuazione. L'ultima puntata ha lasciato uno spiraglio aperto e, per tale motivo, si potrebbe anche continuare a sperare una quinta stagione. Ma il pubblico di Canale 5 dovrà mettere in conto che Aurora non ci sarà. È la stessa attrice a rivelare questo particolare. Infatti, la Safronchik ha condiviso su Instagram un messaggio dedicato proprio ai suoi fan, che in tutti questi anni hanno apprezzato il personaggio Aurora. L'attrice ora saluta la fiction con grande nostalgia. Sicuramente ha avuto un finale dignitoso, visto che sin dalla prima puntata Aurora e Alessandro hanno dimostrato di essere fatti l'uno per l'altra. E mentre Georgia Ward, interprete di Tessa, qualche giorno fa lanciava qualche piccola speranza su social, ora Anna ha scelto di rendere ufficiale il suo addio alle tre rose di Ebba. . Dunque non ci sarà la quinta stagione? Senza la presenza di Aurora sembra sempre più improbabile. . Aurora non tornerà nelle tre rose di Ebba, il messaggio di Anna Safronchik parla chiaro. . Cari amici, grazie con tutto il cuore per averci amati. Grazie a tutti quelli che hanno seguito la grande storia d'amore fra Aurora e Alessandro. Il finale della quarta stagione è riuscito a soddisfare le richieste dei fan, che dall'inizio avrebbero voluto vedere la coppia felice. . Finalmente sono convolati a nozze, esattamente come aveva quasi rivelato Anna prima dell'inizio di questa stagione. . Vi avevo promesso che avrebbero coronato il loro amore e così è stato. Si sono finalmente sposati. I fan speravano di poter vedere ancora Aurora Taviani, ma questo non sarà possibile. Saluto le tre rose di Ebba con affetto immenso e tanta nostalgia. . Questa serie mi mancherà. Ma Aurora farà sempre parte di me e questo lo devo solo a tutti voi e al vostro amore. Punto. . Le tre rose di Ebba 5 non si farà, il messaggio di Aurora cancella le speranze dei telespettatori. . Anna Safroncic saluta così la sua Aurora, che l'ha accompagnata per tutti questi anni. . Grande nostalgia per l'attrice, che non dimenticherà mai questo ruolo. . Nel frattempo, sono in sorte delle polemiche legate al personaggio interpretato da Laura Torresi. . Diversi sono stati telespettatori che hanno segnalato all'attrice la sua quasi assenza nell'ultima puntata. .